Di nuovo sopra 130, per la precisione a quota 134. E' il nuovo riscontro per cività vecchia del covid-19 alla luce dei dati forniti ieri dall'assessorato regionale alla sanità e dalla ASL Roma 4, che hanno evidenziato 14 nuove persone contagiate, compensate però da 10 guarigioni. Per certi versi in città la situazione potrebbe definirsi stabile, anche se a preoccupare c'è un nuovo dato, assolutamente fondamentale. Si tratta del tasso di contagio, ovvero della percentuale delle persone che si trovano affette dal virus sulla base dei tamponi effettuati. In mancanza dei dati ufficiali dei tamponi effettuati direttamente dalla ASL, si può prendere a spunto il report che da qualche giorno a questa parte fornisce il centro diagnostico Buonarroti, dove vengono eseguiti i tamponi rapidi. Ebbene, nella giornata di ieri la percentuale di positivi è salita al 10%, notevolmente cresciuta, quindi rispetto ai giorni precedenti. Fino a domenica scorsa il tasso di positività era sotto il 5%, precisamente al 4,83%. Da ieri è salito quasi al 6%, ovvero al 5,95%. È un segnale questo che anche a Civitavecchia ci si contagia di più. Ecco perché è assolutamente fondamentale seguire le tre indicazioni che vengono fornite al fine di evitare la diffusione del virus, ovvero indossare la mascherina, lavarsi frequentemente le mani e mantenere la distanza di almeno un metro rispetto alle altre persone. Il gas sarà il protagonista della produzione energetica a Civitavecchia e nel territorio fino a quasi la metà dell'attuale secolo. Lo conferma Enel in una nota inviata alle organizzazioni sindacali, parlando del progetto che riguarda anche Torre Valdaliga Nord, estimando in 10-15 anni il periodo di utilizzo del gas all'interno del nuovo impianto termoelettrico. 10-15 anni di gas, né più e né meno. Sono quelli che attendono Civitavecchia le altre tre centrali attualmente alimentate a carbone, ovvero la spezia, fusina e brindisi, secondo il programma elaborato da Enel e presentato nei giorni scorsi ai sindacati nazionali di categoria. Un piano che prende ancora spunto dal cosiddetto phase-out del carbone, ovvero dal progressivo abbandono di quel genere di combustibile fossile che in Italia, stando a quanto già stabilito, dovrebbe avvenire entro il 2025. Nel piano presentato alle organizzazioni sindacali, la SPA spiega che l'impianto di Torre Nord ha registrato un funzionamento molto ridotto negli anni scorsi ed è stato impegnato principalmente sul mercato dei servizi di rete. Conferma poi quelle che erano le previsioni riguardanti l'occupazione nei vari impianti attualmente alimentati a carbone. Per il periodo compreso tra il prossimo anno e il 2025 si prevede una riduzione del fabbisogno di personale di circa 740 lavoratori, di cui 200 potranno fruire del cosiddetto esodo incentivato e la parte rimanente sarà ricollocata soprattutto all'interno della Power Generation con qualche possibile trasferimento presso le altre business line del gruppo Enel. Il piano si legge nel documento consegnato ai sindacati prevede una riduzione non lineare e omogenea nei 4 anni, risultando concentrata principalmente negli anni 2023-2024 nei quali si prevede l'avvio in esercizio delle nuove centrali a gas. Quindi la SPA prevede, forse ottimisticamente, che i primi gruppi delle nuove centrali a gas possano essere già operativi fra 3 anni. Allo stesso tempo conferma che dal punto di vista occupazionale il passaggio dal carbone al gas non sarà indolore, ovvero sarà indolore per i suoi addetti che tra prevenzionamenti e trasferimenti avranno comunque garantito il posto di lavoro, ma avrà ricadute negative per le diverse realtà dove insistono gli impianti che avranno complessivamente meno occupati sia all'interno degli stessi impianti e sia tra le imprese che si occupano di servizi e di manutenzioni. Un altro passo in direzione della progressiva riduzione ed eliminazione del fumo prodotto dalle navi presenti in Porto. È stato rinnovato questa mattina in Capitaneria di Porto il Civitavecchia Blue Agreement, ovvero l'intesa che era stata siglata due anni fa per attenuare gli effetti del fumo prodotto dalle navi presenti nello scalo. Il primo accordo tra autorità portuale, Capitaneria, Comune e compagnie di navigazione era stato infatti sottoscritto nell'estate 2018 con l'obiettivo di tutelare l'ambiente marino e costiero oltre che per contenere i livelli di inquinamento atmosferico nelle aree urbane dovuti alle emissioni provenienti dalle navi. Nel documento sottoscritto questa mattina le novità più rilevanti sono rappresentate dalla firma da parte delle principali compagnie croceristiche che al pari degli armatori delle linee passeggeri e traghetti si impegnano a utilizzare combustibili contenenti zolfo in misura non superiore allo 0,10% e dalla creazione di un gruppo di lavoro che opererà in funzione dell'utilizzo di nuove tecnologie tendenti a ridurre gli effetti inquinanti. Ciò sia nelle operazioni di ormeggio che in navigazione ad una distanza non inferiore alle 15 miglia dalle ostruzioni portuali contribuendo così a ridurre l'impatto delle emissioni in atmosfera da parte delle loro unità navali. Un'altra linea di navigazione che collega Civitavecchia con le isole è a forte rischio di chiusura ma questa volta il problema non è rappresentato dal costo delle operazioni portuali. Si tratta del collegamento con il porto sardo di Arbatax che dalla fine del mese dovrebbe cessare in conseguenza della scadenza dei contributi governativi. La Cinti-Renia ha già anticipato che interromperà la linea a partire da sabato prossimo 1 novembre e la comunicazione ha fatto ovviamente scattare l'allarme nelle aree dell'isola maggiormente interessate al collegamento. Sono così scesi in campo i comuni e subito dopo la questione è stata rilanciata dalla regione e dai parlamentari sardi che hanno interessato il governo. Al momento a quanto pare la linea potrebbe essere salvata attraverso quanto previsto nel decreto Cura Italia. si parla in sostanza della possibilità di una proroga della convenzione pubblica per la continuità territoriale con le isole maggiori e minori affidata a Tirrenia fra i quali il collegamento con Arbatax sino almeno alla prima parte del 2021. SIC Transit Gloria Mundi Usano una citazione latina i consiglieri di minoranza per commentare la decisione dei capigruppo della maggioranza di svolgere il consiglio comunale su CSP previsto per domani in modalità telematica prendendo a spunto le norme anti-covid. La minoranza afferma che in realtà una circolare del Ministero degli Interni lascia una totale discrezionalità circa le riunioni degli organi elettivi che possono essere tenute in presenza fermo restando le condizioni relative al distanziamento e l'utilizzo di presidi sanitari adeguati. La verità secondo le opposizioni è che questa maggioranza su questa tematica e non solo procede in ordine sparso con interessi di partito che a suo giudizio sono distanti mille miglia dalle esigenze della città che specie in questo difficile periodo non può permettersi un governo litigioso e incapace di trovare una linea condivisa. Dopo gli sport acquatici anche palla a mano ed hockey vanno avanti senza intoppi. Infatti la FIG e la FIS hanno annunciato che le attività e i campionati potranno andare avanti per tutti gli atleti agonisti. Quindi potrà partire la serie A2 femminile per la Flavioni anche se al momento non c'è nessuna indicazione ufficiale sulla data di partenza con le indiscrezioni che dicono che si dovrebbe iniziare l'8 novembre. Semaforo verde anche per gli snipers techno alt molto interessanti alla questione anche perché la stagione di serie B inizierà domenica prossima con la sfida interna contro i tergeste Tigers. Ritorno felice alle gare per Serena Damora e Roberto Di Giulio. Nel weekend è andato in scena il 44esimo rally trofeo Maremma che ha visto ai nastri di partenza 88 iscritti per le auto moderne ed un percorso con le classiche tre prove speciali Gavorrano, Capanna e Marsiliana da ripetersi tre volte nell'arco della domenica. La gara si è svolta a porte chiuse nel rispetto delle norme anti-covid con partenza, arrivo e parco assistenza presso il Palagolfo di Follonica. Continuate a seguirci sui nostri profili social alla pagina TRC Giornale e sul nostro sito www.trcgiornale.it Grazie a tutti.